Cresce in maniera significativa il numero delle vaccinazioni in Lombardia grazie ad una stretta collaborazione tra Regione e Federpharma per la distribuzione ai medici di famiglia e pediatri del vaccino antinfluenzale direttamente nelle farmacie di fiducia. Un iter semplificato che ha dato in poco più di due settimane i suoi frutti con un incremento del 70% di richieste, come ha sottolineato la presidente di Federpharma Lombardia, Maria Rosa Racca. Lombardia con i medici di medicina generale che i pediatri di libera scelta, quest'anno aumenterà la copertura vaccinale, aumenterà di tanto, questo è importante perché la vaccinazione è un grandissimo strumento di prevenzione, basta che viene la letta per una settimana perché si è presi l'influenza, aumenterà perché? Perché i medici e i pediatri hanno potuto trovare le dosi di vaccino da fare ai loro malati, ai loro pazienti, alle donne in gravidanza, agli anziani, ai bambini fragili, a tutte le persone fragili hanno potuto trovare in farmacia, quindi nella farmacia più vicino al loro ambulatorio, al loro studio di medicina generale, questo sarà molto importante. Come vi dico abbiamo già distribuito più di 1.200.000 dose di vaccino antinfluenzale, ma non è finita la campagna vaccinale e quei medici che vedranno e che avranno bisogno di ulteriori dose potranno sempre chiedere dalla farmacia vicino al loro ambulatorio, quindi un grande impegno per prevenire, la cura, la prevenzione deve aumentare non soltanto la vaccinazione ma anche naturalmente il contro per prevenire le grandi malattie, insomma questo è un bel segnale.